Il progetto nasce da un accordo fra la società Ecoretiche, un'innovativa società di gestione del sistema idrico integrato, e il Dipartimento Ingegnere dell'Ambiente dell'Università della Calabria, in particolare il gruppo di ricerca e gestione sostitibile delle risorse idriche. Questa proposta progettuale risponde a un bando che si chiama Living Lab, che sostanzialmente avvicinava il fabbisogno espresso dal comune di Apriliano, che ci chiedeva di poter studiare la sua rete idrica di distribuzione interna al comune e di proporre delle innovazioni per un miglior funzionamento. Questa alleanza con Ecoretiche ha determinato una coprogettazione e poi una collaborazione col comune di Apriliano e ha portato a avere un'informazione e una modalizzazione idraulica di primissimo livello, quindi fortemente innovativa, partendo da un'informazione, praticamente per tradizione orale, da parte di quelli che i costretti fontanieri del comune che si occupavano della rete. Oggi, grazie ad Ecotet e all'Università della Calabria, il comune di Apriliano ha un sistema agista, una modellistica matematica che rappresenta la simulazione della propria rete e ha la possibilità di capire come intervenire per migliorare la distribuzione dei propri cittadini. Questo lavoro di fondamentale importanza per i comuni come il nostro e quindi dell'entroterra calabrese, perché ci sono degli aspetti che si vedono, diciamo, che sono palesi, ci sono altri aspetti come questo che magari non si vedono subito ma sono di fondamentale importanza, come quello che abbiamo messo in campo qui sul nostro territorio, cioè quello dell'ingegnerizzazione delle reti, che ci consente di avere un monitoraggio, un controllo proprio delle reti idriche. Per un comune come il nostro è di fondamentale importanza, avendo un chilometro di reti sul nostro territorio e quindi avere questo monitoraggio, questo controllo ci consente anche di dare dei servizi più efficienti ai nostri concittadini. va fatto un ringraziamento all'ingegnere Maiolo per aver scelto il comune di Apriliano e quindi alla facoltà di ingegneria, in particolare al dipartimento proprio relativo all'ingegnere Maiolo e anche ad Ecotec per aver installato la strumentazione innovativa che ci ha consentito di avere appunto un risultato eccellente sulle nostre reti. Ecotec entra nel progetto Eco-Reti come partner del DIAM, il Dipartimento di Ingegneria dell'Abbiente dell'Università della Cabria. È un progetto che ha riguardato nello specifico l'efficientamento del sistema di distribuzione del comune di Apriliano attraverso in particolare la messa in atto di misure di contenimento delle perdite, misure atte in particolare a prevenire l'insorgenza di perdite, nello specifico a ridurre le pressioni di esercizio nella rete di distribuzione che come tutti sappiamo sono spesso causa di frequenti rotture. Oggi nello specifico chiudiamo appunto questo progetto che si occupa di reti idrauliche, dell'efficientamento e di migliorie sulla rete in particolare del comune di Apriliano. Abbiamo preso questo come caso studio, abbiamo avuto i dati, i nostri ragazzi sono stati sul posto, hanno fatto i dovuti controlli per efficientare la rete, diciamo quando parlo di rete idraulica parlo di rete che condotte di acque.